Anche stavolta sei andato vicino De Rossi, mannaggia, te l'ha tolta dalla linea. Si, si, l'ha preso nella linea, però succede. L'importante è che abbiamo fatto una grande partita e speriamo di farlo meglio la prossima volta. Sicuramente siete in crescita perché le partite precedenti, le squadre non erano eccezionali ma oggi era una grande Roma e la Fiorentina è stata, secondo me, più grande. Si, si, abbiamo dimostrato che abbiamo il nostro gioco, che ancora sappiamo che cosa dobbiamo fare e sicuramente dobbiamo chiudere la partita prima. Al primo tempo dovevamo fare un altro gol, abbiamo avuto situazioni per farlo, però è importante che la gente, il tifoso, ha visto una gran Fiorentina. Mario Gomez è contento, penso, sei veramente sbloccato. Si, si, noi sappiamo che cosa può fare e abbiamo una grande fiducia. Grazie, grazie Gonzalo.